Come acquistare un NFT all'interno di Binance, guida pratica semplice per principianti by Cryptovalute Italia. Benvenuti amici investitori di criptovalute, oggi andiamo a vedere come poter comprare NFT all'interno di Binance. Questa vuole essere una guida dedicata a tutti coloro che si stanno affacciando per la prima volta al mondo degli NFT. Non vuole essere un consiglio finanziario, noi non siamo consulenti finanziari, quindi sarà semplicemente una guida tecnica che vi mostra passo passo come poter acquistare degli NFT all'interno di Binance. La prima cosa che dovete fare è quella di registrarvi a Binance se ancora non siete registrati. Quindi di conseguenza vi basterà andare in basso, troverete il link di registrazione a Binance. Grazie al nostro link avrete a vita sconti sulle commissioni di acquisto e vendita di criptovalute, quindi a vita. E in regalo una mystery box con un NFT gratuito, quindi vi straconsigliamo di registrarvi proprio dal nostro link referral. La registrazione a Binance è molto semplice, quindi dovete prima registrarvi a Binance, quindi non a Binance NFT, in quanto si collega in automatico. Ci sarà il classico KYC, quindi dovete inserire i vostri dati, inviare i documenti e poi effettuare la verifica. Di solito in pochi minuti riuscirete a fare tutto. Una volta fatto questo vi ritroverete in questa schermata o nella schermata dell'applicazione, potete seguire questo tutorial direttamente anche dall'app dello smartphone. Per poter comprare NFT all'interno di Binance, generalmente abbiamo bisogno di due criptomonete, che sono, andiamole a vedere qui su CoinMarketCap, BNB, che è il token ufficiale di Binance, quindi Binance Coin, ok? E BUSD, che sarebbe la stablecoin di Binance, che è questa qui, ok? Quindi una stablecoin vuol dire che è ancorata al valore del dollaro. Un BSD equivale a un dollaro, ok? Per poter acquistare queste criptomonete vi basterà andare qui su CompraCripto e avete diverse soluzioni. La prima è depositare, quindi effettuare un bonifico e poi con gli euro depositati, i dollari depositati, potete andare a comprare le due criptomonete. Abbiamo fatto tanti tutorial sul canale dove mostrano come poter comprare e vendere criptomonete su Binance. La seconda soluzione è attraverso la carta di debito, quindi io per esempio vado a comprare attraverso euro. Vi faccio un esempio, quindi seleziono euro. Voglio comprare BNB, ok? Seleziono BNB e quindi scelgo di comprare 1000 euro di BNB e mi ritrovo 2,56 BNB. Clicco su Continuo e procedo. La terza opzione è quella di effettuare il trading e vi straconsiglio Atani, trovate il link referral in basso per potervi registrare. È gratuito e possiamo collegare Binance ad Atani, ok? Abbiamo fatto anche in questo caso un tutorial dove spiega come funziona Atani. Se no potete comunque farlo direttamente qui dalla sezione spot. Detto questo, ok? Una volta che noi abbiamo comprato i nostri BNB o BSD, non vi faccio vedere come si fa perché ci sono i tutorial appositi, è molto semplice. Dobbiamo andare all'interno della sezione NFT. Come potete vedere in automatico Binance NFT si collega a Binance, al nostro account Binance, ok? Lo potete fare anche da app. Ora io generalmente su Binance NFT mi ritrovo le collezioni, ok? Le mystery box, eccetera, eccetera, anche le IGO, ok? E questo lo vedremo tra poco. E andando qui in basso invece mi trovo i creator consigliati, le collezioni consigliate, quelle popolari, ok? E così via. E quello che posso fare però è andare sul mercato. Quindi io vado come prima opzione sul mercato perché posso andare a comprare direttamente anche da altri utenti gli NFT presenti su Binance. Come potete vedere possiamo anche comprare in Ethereum, quindi volendo possiamo acquistare Ethereum e comprare in Ethereum. Ora, io vado all'interno di un qualsiasi NFT di mio interesse, immaginiamo questo, ok? Anzi, vediamo questo qui. Vedete questo ha un costo di 999 BSD che ci fa vedere anche il controvalore in euro, 920 euro. Quindi 999 dollari essenzialmente. Io ci clicco su e per poter comprare questo NFT mi basta semplicemente cliccare su compra ora. Facendo compra ora io ho l'opportunità di dare la conferma. Ora, per poter comprare però devo avere i 999 BSD perché se no non posso cliccare su conferma. I disponibili ne ho 54 in questo momento. Però è molto semplice, clicco, clicco su conferma e via. L'altra opzione invece è quella di fare un'offerta. Allora, in questo caso specifico io posso decidere di fare un'offerta in BNB, in BSD o in Ethereum. Immaginiamo di volerla fare in BSD, il prezzo è di 999, magari io invece di 999 voglio proprio comprare questo NFT e gli faccio un'offerta di 900 BSD. Quindi a basso di 100 dollari il prezzo, ok? Naturalmente in questo caso ci fa vedere Binance che il relativo importo verrà congelato e sarà automaticamente sbloccato quando l'offerta verrà annullata. Quindi da noi oppure sarà scaduto, verrà naturalmente rifiutata. E noi possiamo naturalmente scegliere qui di andare a dare una scadenza all'offerta. Quindi per esempio gli voglio dare 7 giorni di tempo al venditore per comprare, vado a impostare qui. Se no io quello che posso fare è dargli solo un giorno, quindi entro un giorno tu accetti, se no io vado avanti e clicco su conferma. Ora non me lo fa fare naturalmente perché non ho i miei BSD. E questa è la prima opzione, ve l'ho fatta vedere, è molto semplice. Alla fine di questo video compreremo un NFT assieme, ok? Quindi non vi preoccupate, vedremo proprio esattamente come si fa. Questo è molto semplice, quindi non clicco solo su conferma perché non voglio comprare questo NFT. Naturalmente se avete dubbi o domande lasciate un commento qui in basso. E prima di vedere altri modi per poter comprare NFT, perché ce ne sono altri qui su Binance NFT, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, questo è molto importante, e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi i nostri contenuti dedicati al mondo delle criptovalute. Come avete visto pubblichiamo anche contenuti dedicati ai play to earn, NFT, metaverso, quando ne vale la pena, soprattutto su piattaforme così tanto utilizzate e che abbiamo portato più spesso all'interno del canale. Un'altra opzione è quella di comprare le mystery box. Le mystery box mi danno la possibilità di poter comprare un, essenzialmente, un po' come funziona con i pack di Crypto.com, ok? Dove è random quello che ti va a uscire. In questo caso spendo 35 BSD, al massimo ne posso comprare 50. Ce ne sono 11.880 e ne rimangono 7.783. E quello che succede è che io posso ottenere uno di questi oggetti, ok? Per esempio Capitanucco, ok? È super raro. E questo varrà di più rispetto naturalmente a questo qui, ok? Poi qui ci spiega naturalmente che cosa troveremo all'interno, ok? E la percentuale che abbiamo per poter ottenere uno di questi oggetti. Per esempio questo super raro, abbiamo la possibilità di averlo allo 0,25%, ce ne sono solamente 30. Mentre qua abbiamo la possibilità del 23%, ce ne sono 2.800 e quindi costerà molto di meno. Va bene? Quindi andiamo un po' a fortuna e dipende naturalmente dal tipo di collezione. Perché alcune volte, alcune collezioni potrebbero avere comunque un floor price, quindi un prezzo minimo, superiore all'acquisto del pack che noi andiamo a comprare. Quindi magari anche se compriamo a 35 e esce questo, magari questo lo puoi vendere a 350. Vi faccio un esempio, ok? E quindi questa è l'opzione. Sui Mystery Box ne troverete di tutte e di più. Alcuni già aperti, altri no. Comunque questa è una soluzione. L'ultima invece soluzione è quella di andare qui all'interno di Binance NFT e vedere le collezioni che stanno per lanciare, per essere lanciate. Per esempio, ripeto, abbiamo visto questa qui adesso di Capitanook, ma vi voglio far vedere l'ultima e proprio compreremo due ticket di questa collezione qui. Infatti qua parliamo di IGO, cioè Initial Game Offering. Generalmente è un play-to-earn, questo è un play-to-earn, che prima di lanciarsi sul mercato viene su Binance, per esempio, e lancia degli NFT e dei token prima ancora di essere lanciato appunto ufficialmente sul mercato e possiamo avere in anticipo appunto questi NFT e questi token. In questo caso specifico funziona un po' come i Launchpad. Abbiamo fatto un tutorial apposito su questo argomento qui, quindi andatelo a vedere. Come potete vedere, se io vengo qualificato e per poter essere qualificato durante la fase di preparazione essenzialmente devo avere BNB, ecco perché vi consigliamo di comprare BNB per comprare NFT, c'è il periodo di sottoscrizione. Nel periodo di sottoscrizione, in questo caso, io cosa posso fare? Posso andare a comprare dei ticket. Questi ticket, quindi massimo 5 biglietti posso comprare, mi danno la possibilità di poter ottenere uno di questi NFT, o più di uno di questi NFT, semplicemente se vengo estratto, perché vedete ce ne sono in totale 5.000, però qua sono già 45.000, quindi capite bene che 40.000 rimangono fuori. Quindi qui va anche a fortuna, però la cosa bella qual è? È che un ticket in questo caso costa 25 dollari, quindi 25 BSD. Se non viene estratto, viene rimborsato, quindi non perdi nulla. E quello che farò adesso è proprio comprare due ticket che mi daranno la possibilità di ottenere due NFT che potenzialmente varranno molto di più di 25 BSD. Quindi facciamolo assieme, clicchiamo su sottoscrivi per biglietti, seleziono i due ticket che andrò a comprare, in quanto ho 54, quindi al massimo due le posso comprare, clicco su sottoscrivi, è andato a buon fine, ho comprato due biglietti, e adesso quello che devo fare è attendere domani, che ci sarà il calcolo, alle ore 11, perché 9 ottici sarebbero le 11 nostre, e alle ore 14 io scoprirò, se poi in questo lasso di tempo scoprirò, se io ho ottenuto questi NFT. Se ho ottenuto questi NFT attraverso il mio ticket, posso riscattarli, e quindi avrò uno di questi, che probabilmente avrà un bel valore, che io posso andare a vendere sul mercato. Quindi, in maniera molto semplice e veloce, vi ho fatto capire come possiamo comprare NFT su Binance, generalmente abbiamo bisogno di tre criptomonete, BUSD, Ethereum o BNB, possiamo partecipare agli IGO come queste, e quindi funziona un po' come i Launchpad, in questo caso specifico un po' più particolare, possiamo comprare le Mystery Box, o partecipare a collezioni particolari, per esempio come quella di Stepn, che abbiamo già trattato sul canale, tra le altre cose, vedete anche qui c'è preparazione, sottoscrizione, calcolo e distribuzione, ok, e il limite di acquisto per utenti era di un biglietto, ok, qui costava un po' di più, ma avete visto, prima abbiamo intravisto un po' i prezzi, sono molto, molto importanti, in questo caso specifico, e poi naturalmente abbiamo la possibilità di vedere altre collezioni, che escono a mano a mano, oppure andiamo sul mercato, in questo caso compriamo direttamente da altri utenti, se volete invece capire come vendere NFT su Binance, fatecelo sapere nei commenti qui in basso, magari andiamo a realizzare un video ad hoc, qui da Cryptovaluto Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!